Con colore e carta, cambiare la giornata, da rimanere a casa, che tanto avete cosa fare? E ballando, ballando, e cantando, cantando, e poi già state volando, e con la fantasia potrai, e giocando, giocando, e saltando, e nuove passioni hai, scoperte ti piacerà, mostrare la vita. Ciao a tutti, io sono Cagliari Sotto e oggi vi mostrerò come fare le uova in modo uno. L'occorrente saranno delle uova a piacere, praticamente io ne utilizzerò quattro, poi un frullatore e due ciotole, una dove mettere l'albume e una dove mettere il tuorlo. E procediamo appunto così, divirando l'albume dal tuorlo. E procediamo in questo modo, con il frullatore, che farà montare l'albume a neve. Ho montato a neve l'albume, e per vedere se l'abbiamo montato vana, inseriamo la focchetta all'interno, e dobbiamo vedere se sta un piadino, in questo modo qui. Dopodiché andiamo a sbattere il forno con una focchetta. Andiamo ad accendere il fuoco con una parola, e andiamo a mettere un po' di olio. Appena l'olio sarà caldo, andiamo a buttare il tuorlo, appunto, nel tabellino. Ad olio ben caldo, andiamo a, appunto, versare il tuorlo all'interno del tabellino. Quindi, fatele apprendere per un po' il tuorlo, e poi con una spatola andate a mettere sopra il tuorlo l'albume. E andiamo a chiudere tutto con il coperchio. Andiamo a mettere un po' di sale. E poi, invece di mostrare per quanto mi è uto, è spegnere tutto. Infine, lo andiamo a tagliare, e questo sarà il risultato. Grazie per avermi seguito, e a presto. Grazie per avermi seguito, e a presto. Grazie per avermi seguito, e a presto.